Sappiamo tutti nel nostro territorio, come d'altra parte in tutta Italia, che la gran parte, abbiamo fatto degli studi anche approfonditi, del patrimonio edilizio residenziale, industriale e quant'altro, non è assolutamente adeguato alle nuove norme antisismiche. Non è adeguato per un fatto molto semplice, le nuove norme che hanno riclassificato il territorio sono del 2008 e dunque tutto il patrimonio precedente chiaramente non poteva essere adeguato. Parole che fanno riflettere ognuno di noi, quelle del Presidente della Federazione, Ordini Ingegneri del Veneto. Il nostro territorio, l'ambiente nel quale viviamo, è delicato in questo momento di fragilità, necessita di attenzione per prevenire conseguenze devastanti che potrebbero essere determinate da terremoti o alluvioni. Questi argomenti sono stati al centro dell'attenzione di una conferenza alla quale la Federazione ha invitato, indistintamente dal colore politico, tutti i candidati alla prossima legislatura. È stato un incontro nel quale sono stati affrontati i problemi, ma anche le possibili soluzioni per la messa in sicurezza, cosa assolutamente fattibile, come ci spiega il Presidente nazionale. Una in particolare è la prevenzione, cioè un piano di messa in sicurezza del Paese dal punto di vista idraulico, dal punto di vista sismico. Noi, il nostro centro studi ha elaborato una ricerca dove, per mettere in sicurezza al Paese l'edilizia residenziale, tutte e quattro le zone sismiche servono 92,5 miliardi di euro. Sono una cifra importante, ma spalmati nei cinque anni di una legislatura sono meno di 27 miliardi all'anno. Se pensiamo che il bilancio dello Stato è di 805 miliardi, stiamo parlando di percentuali per anno inferiori all'8 per mille. Quindi è una cosa che si può e si deve fare, come quella della messa in sicurezza dal punto di vista idraulico del Paese. Il Veneto è una zona sensibile dal punto di vista sismico, abbiamo visto con l'evento dell'Emilia Romagna che non era a forte rischio sismico, però l'evento è stato importante. Abbiamo poi tutto il costruito perché la nuova normativa naturalmente ha messo in sicurezza e mette in sicurezza il nuovo edificato. Noi abbiamo edifici di valore che sono datati e che non sono sicuri dal punto di vista sismico. Su questi bisogna intervenire a partire dagli edifici pubblici e poi per andare nei privati. Risposte certe per la tutela del territorio e di conseguenza per salvaguardare la vita dei cittadini. Opere che servono per la prevenzione e che tra l'altro, come riflesso, avranno la capacità di rimettere in moto un'economia di crescita e sviluppo, come approfondisce il Presidente Provinciale. Sentite. Abbiamo voluto con questo evento incontrare i candidati alle prossime elezioni politiche per cercare di portare la nostra idea alla loro attenzione, cercare di coinvolgerli in questi progetti che sono dei progetti a nostro avviso sostanzialmente concreti e che possono vedere un rilancio completo dell'economia, dell'indotto, naturalmente senza la previsione di un intervento dello Stato attraverso delle forme di incentivazione, di defiscalizzazione di quelli che sono gli interventi che il privato dovrebbe eventualmente attivare per il rilancio della nostra economia, soprattutto nel settore della filiera delle costruzioni, della messa in sicurezza del territorio, da rischio idrogeologico e da altri rischi e in più con il tema che abbiamo detto dell'open data.